E salve a tutti carissimi ascoltatori di Rai Android, bentornati in una nuova puntata, qui come sempre Mario che vi parla ed oggi ho il piacere di intervistare un giovane calciatore, lui attualmente è nella squadra primavera dell'Inter, lui è Andrea Dorante ed io lo ringrazio veramente di cuore per aver accettato il mio invito. Salve a tutti, sono Andrea Dorante e ringrazio Mario per l'invito e do il via alle domande. Bene, direi un po' di sciogliere il ghiaccio, così parlandoci un po' della tua carriera calcistica, com'è che nasce questa tua carriera? La mia carriera calcistica iniziò a cinque anni al Parma con i Pulcini e l'Inter mi seguì fin da subito e quando raggiunsi l'età giusta, esattamente quattro anni fa, dopo il fallimento del Parma, nel 2015 mi trasferì a Milano entrando a far parte dell'FC Internazionale. Bene, invece per quanto riguarda proprio la tua passione per il calcio, com'è che nasce? La passione per il calcio iniziò fin da piccolo, quando mio papà e mio nonno mi portarono al campo assaporando i primi calci, avendo una famiglia che è sempre stata proiettata per questo magnifico sport e da lì iniziò questa passione. Per quanto riguarda invece i tuoi gol, hai mai dedicato a qualcuno un gol? E se sì, a chi lo hai dedicato? I miei gol li ho sempre dedicati a persone che mi sono sempre stati vicini, che sono la mia famiglia e la mia ragazza, che hanno sempre affrontato i sacrifici insieme a me, senza mai lasciarmi solo e in ogni difficoltà mi hanno sempre accompagnato. Com'è che vivi questa esperienza nell'Inter? Nell'Inter mi sono sempre trovato bene in questi quattro anni, perché ho avuto persone e allenatori che mi hanno aiutato sia dentro che fuori dal campo, crescendo sia come calciatore che come persona. Per me questa squadra è come una seconda famiglia. Bene, durante la tua carriera calcistica, qual è stata la partita più importante che hai giocato? La partita più importante è stata quella dell'anno scorso, dove abbiamo affrontato la Fiorentina in finale Scudetto, portando a casa la vittoria. Bene, ora cambiamo un po' il discorso. Parliamo delle tue altre passioni. Quali sono le altre passioni oltre al calcio? Oltre al calcio ho un'altra passione, che è quella per la pesca, che fin da piccolo mi è stata trasmessa da mio zio. E per quanto riguarda invece i tuoi sogni, quali sono i sogni che vorresti realizzare in questa tua carriera calcistica? Il mio sogno calcistico che vorresti realizzasse è quello di esordire in Serie A con la maglia dell'Inter davanti a tutte le persone che mi hanno sempre seguito. Perfetto Andrea, io mi auguro che tutti i tuoi sogni possano realizzarsi. Ti mando un grande abbraccio, ti ringrazio per aver accettato questa nostra intervista. Ringraziamo anche la società dell'Inter per averci permesso questa intervista. Di nuovo ti mando un grande abbraccio. Grazie a tutti, ringrazio nuovamente Mario per l'invito. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Android da Andrea Dorante.